Se ne accusa trasporti, immatricolazione in calo, solo tre nuovi autobus, più della metà del parco è vecchio e inquinante. Dopo la crisi vissuta nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, il 2021 avrebbe dovuto essere l'anno del rilancio per il settore dei trasporti. Ma si può parlare di vera ripresa? Per rispondere a questa domanda e capire le evoluzioni che hanno trasformato il comparto dei mezzi pesanti per il trasporto di merci e persone dopo il primo anno di pandemia, sia a livello nazionale sia a livello locale, Continental ha realizzato la seconda edizione dell'osservatorio sui macro trend del trasporto pesante. Lo studio fa emergere le tendenze evidenziate dallo sviluppo del parco circolante in Italia e in Sicilia attraverso l'analisi dei dati sulle immatricolazioni, i tipi di alimentazione, l'anzianità e la categoria euro. Il settore nazionale del trasporto persone mostra un importante segnale di crescita con 4.091 mezzi immatricolati nel 2021 a fronte dei 3.404 del 2020, più 20,2%. Anche in questo contesto la provincia si posiziona in controtendenza segnando un aumento di nuove targhe immatricolate con 3 nuovi mezzi. Il parco autobus nel nostro paese registra nel 2021 100.199 unità e anche in questo contesto dal punto di vista dell'alimentazione il panorama è stabile rispetto al 2020, sebbene con qualche piccolo segnale di miglioramento. La maggioranza dei mezzi in circolazione rimangono a gasolio, mentre le quote di elettrico e ibrido crescono ma non superano l'1%. Saracusa segna la percentuale più alta in regione per veicoli elettrici, 3%, anche se il parco circolante resta composto quasi esclusivamente da mezzi a gasolio, 95,3%. Gli ibridi si annullano. In aumento rispetto al 2020 in Italia la percentuale di autobus appartenenti alle categorie euro 5 ed euro 6 si attesta al 42,3%. Stupisce negativamente la quota degli autobus di categoria euro 0 ancora in circolazione che rappresentano l'11,8% del parco. Nella provincia di Siracusa il tasso di euro 0,1,2 sfiora il 57%, toccando la cifra più elevata a livello regionale dove i soli euro 0 superano il 34%. Coerentemente la provincia registra solo il 17,6% per le classi più giovani, il tasso più basso. Per il trasporto persone nazionali la fascia di anzianità tra 0 e 5 anni rappresenta il 20,5% del totale, una quota in crescita di un punto percentuale rispetto allo scorso anno, ma ancora altamente superata dai mezzi vecchi di oltre 20 anni. Siracusa ha una percentuale di autobus oltre 20 anni che sfiora il 55%, segnando la percentuale più alta in regione. La provincia inoltre si posiziona all'ultimo posto per la presenza di mezzi giovani da 0 a 5 anni, registrando solo il 5,5%.